È un progetto che si basa sulla volontà di tutti noi di riportare in auge quello che è veramente la tradizione orafa, quella che è una tradizione per le marche ma soprattutto per la nostra città e per quanto riguarda a Fano che vanta veramente una tradizione a livello nazionale e internazionale perché abbiamo degli artisti che si sono fatti conoscere un po' in tutto il mondo. È un progetto che parte, diciamo, un inizio di un progetto ambizioso che parte con dei corsi di oreficeria che verranno fatti alla Scuola d'Arte di Fano dove sia i ragazzi giovani che escono dalla scuola, quindi che fanno il quinto anno ma che vogliono comunque perfezionarsi e vogliono specializzarsi in quello che l'arte ora fa con altre tecniche, possono fare questo corso ma anche per coloro che vogliono specializzarsi magari in altre tecnologie, in altre tecniche che può essere in questo caso anche l'intelligenza artificiale. Quindi nasce da questa volontà facendo questi corsi ma è un tassello, è un inizio, dopodiché verrà coaduvato da tanti altri progetti che possono essere quelli delle mostre, portare anche addirittura degli artisti importanti che creano comunque anche dei gioielli. Quindi è veramente voler avere la volontà di riportare in auge, di riportare a casa quello che è la tradizione ora fa che purtroppo nel tempo si è andata un po' a perdere, nonostante le eccellenze che noi veramente abbiamo e abbiamo sempre avuto sul nostro territorio. Quindi corsi aperti a luglio, le due settimane di luglio a seconda chiaramente delle iscrizioni e poi si faranno delle specifiche, dei corsi con dei tutor che seguiranno appunto i ragazzi piuttosto che le persone più grandi in tutto il loro percorso e avranno anche, diciamo, riporteremo anche a conoscere il territorio perché andremo a vedere i bronzi di Pergola insomma si faranno anche delle visite guidate. Attualmente la scuola avversa in una situazione abbastanza buona ma bisogna rilanciare questa idea del gioiello d'artista. Tante donne sono presenti quindi faremo tutta una serie di grandi eventi su queste donne del gioiello contemporaneo e che saranno l'inedito in Italia e quindi siamo pronti a valorizzare un patrimonio che è della nostra nazione.